L'acqua è ghiacciata, non è che ti sei dimenticato di pagare la bolletta del gas. Ma tesoro me è un lavoro. Non so se sbattuto, saranno i vestiti, il viso e il mattino, sembra il fine giornata. Chi voleva, Valerio? Mi hai messo a lavorare sotto un'influenza di 20 anni. Tu quanti erai fatti la settimana scorsa? 41? 40. E mia mamma c'è una 40 e sta una bomba. Mamma. Se tu vuoi che io smetto di lavorare per andare a rispondere al tecnico di internet, io lo faccio. Buongiorno a tutti e due. Bellissima sta storia del bonus aziendale, no? Quale bonus? Lei è molto compressa. Ad ogni attacco d'ansia ne prenda tre, massimo, quattro gocce. Sentiamoci tra qualche giorno. E poi noi non ci siamo visti stamattina, eh? Non sei in grado di dirigere un'azienda, Valerio? Sono un coglione. Ho capito. Hai ciclo. Un saluto a tutte e due? Dici che c'è. L'ho capito. Ti è venuto il ciclo, vero? La capitale della Spagna? Certo che lo so. Ibiza. Vabbè, che vuoi di donne in queste situazioni? Non dire mai a una donna, vuoi donne. Ma non so il tuo, ma io mi porterò sempre qualcosa di te con me. Il mio banco, Matt? Parlando di cinema italiano, Fellini scrisse la scena con Adriano Celentano in La Dolce Vita dopo aver letto un articolo sui fan del cantante che avevano bloccato il traffico davanti a un teatro di Milano. Pare che quando Fellini gli disse che avrebbe dovuto fare una scena ballando con Anita Egber, Celentano disse semplicemente, urca. Ragazzi, se siete veri cinefili questa maglietta fa per voi, in info box il link per acquistarla.